Ciao a tutti, benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare tre obiettivi Legacy in Fortnite per la stagione 3. Il primo obiettivo è quello di giocare nei panni di Aquaman, il secondo obiettivo è quello di cavalcare uno squalo bottino nei panni di Aquaman e il terzo obiettivo è molto più lungo e particolare, ossia di saltare 77 volte con lo squalo. Ma che cosa significa? Cioè, avete presente quando catturate uno squalo bottino con la canna da pesca e saltate? Bene, non è quello. Adesso vi mostrerò di cosa si tratta. Quindi se avete sbloccato la skin di Aquaman e non l'avete ancora usata, beh, io vi consiglio di farlo perché otterrete un obiettivo Legacy. Il secondo obiettivo, come vi ho detto, è quello di cavalcare uno squalo bottino con Aquaman. Come si cavalca uno squalo bottino? Sicuramente se giocate dall'inizio della stagione saprete già farlo. Ve l'ho mostrato anche in svariati video tutto quello che dovete fare e prendere una canna da pesca, lanciarla in acqua e aspettare che lo squalo bottino abbocchi. Ora, io vi consiglio di farlo a sabbie sudate qui sul molo perché qui trovate la canna da pesca. Quindi potete sia sbloccare l'obiettivo Legacy che vi richiede di cavalcare uno squalo bottino nei panni di Aquaman che cimentarvi nella sfida che richiede di saltare 77 volte con lo squalo bottino. Quindi una volta che siete arrivati a spiagge sudate, prendete la canna da pesca e dovete partire alla ricerca di uno squalo bottino. Ora, solitamente li trovate qui nei pressi di sabbie sudate anche perché l'acqua è scesa drasticamente, quindi non li trovate più in giro per la mappa, ma soltanto nei luoghi in cui c'è tanta acqua. Ora, io ovviamente sono fortunato e l'ho beccato subito. Eccolo qua. Quindi tiro una bella lenza in acqua, aspetto che lo squalo abbocchi e voilà, ho l'obiettivo Legacy re squalo. Ora, tutto quello che dovete fare per sbloccare l'obiettivo Legacy di saltare 77 volte con lo squalo è quello di entrare in una, diciamo, in questa praticamente, che non ricordo il nome attualmente, con lo squalo. Quindi prendete praticamente la canna da pesca, catturate uno squalo e entrate qui dentro 77 volte per, diciamo, sbloccare la sfida. Ora, è una sfida abbastanza lunghetta, ma se fate avanti e indietro in questo modo qua, potete, diciamo, sbloccare l'obiettivo Legacy. Quindi molto, molto semplice. Venite a spiagge sudate, prendete la canna da pesca, catturate uno squalo bottino e saltate 77 volte qui dentro, nel mulinello. Ecco, mi è venuto il nome, non so perché non mi veniva. Quindi, in questo modo qua, sbloccherete l'obiettivo Legacy. Gli altri due, come vi ho detto, sono quelli di usare Aquaman in una partita e cavalcare lo squalo bottino con Aquaman una sola volta.